Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo dell'ultima parte del movimento, parleremo infatti della corteccia motoria e poi non ci resta altro che di parlare dei gangli della base e avremo finito. Allora, come abbiamo visto le ultime volte, l'atto motorio, quindi il movimento, viene stimolato da parte di motoneuroni che si trovano nelle corna anteriori del midollo spinale, quindi da questi alfamotoneuroni. Però, sebbene questi siano quelli che poi effettivamente vadano a stimolare i muscoli nel cambiare il movimento, non sono questi i neuroni che decidono che il movimento debba effettivamente avvenire. Infatti, il tutto origina a livello centrale, a livello cerebrale. Abbiamo un'area della corteccia, detta corteccia motoria primaria, orea 4 di Brodman, che si trova proprio anteriormente, o rostralmente, rispetto al solco centrale. Quindi, se noi prendiamo un cervello, sappiamo che ci sono vari solchi che lo dividono in tante micro aree e, quello penso più grande di tutti, dal lobo parietale. E' proprio il giro, diciamo, davanti, anteriormente, rispetto a questo solco, quindi ancora nel lobo frontale, è l'area 4 di Brodman, o corteccia motoria primaria. Qui sono rappresentati i neuroni che effettivamente vanno a stimolare poi i motoneuroni a livello del bidello spinale della parte controlaterale. Quindi, se noi abbiamo, per esempio, questo qui è un emisfero sinistro, i motoneuroni siti in quest'area che ho appena colorato andranno poi a stimolare i muscoli della parte controlaterale del corpo, quindi del corpo destro, e viceversa. Questa area motoria, l'area motoria primaria, diciamo, è la più importante, anche la più studiata, la meglio compresa delle aree motorie, però non è l'unica. Sappiamo, infatti, che esistono due aree ulteriori. Una, che si chiama la SMA, area motoria supplementare, supplementare motore aerea, si trova sempre anteriormente rispetto all'area motoria primaria e poi continua anche medialmente. Quindi dobbiamo immaginarla come sia, diciamo, sulla superficie laterale sia soprattutto sulla superficie mediale. E poi un'altra area, l'area premotoria, si trova sempre anteriormente rispetto all'area motoria primaria e più lateralmente rispetto alla SMA. La differenza tra queste aree è che l'area motoria primaria è quella che effettivamente viene convolta nell'esecuzione del movimento. Quindi quando noi andiamo a stimolare, per esempio, con degli elettrodi oppure con la simulazione magnetica transcranica dei neuroni nella corteccia motoria primaria, andremo effettivamente a vedere un'attivazione dei muscoli, una generazione di potenziali d'azione e potenziali di membrana muscolari. Per quanto riguarda invece le aree motorie supplementare e premotoria, sembra che queste siano più coinvolte nella pianificazione del movimento. Il loro ruolo non è stato ancora del tutto elucidato con certezza, però sembrano appunto coinvolte in degli aspetti più organizzativi del movimento stesso. Per quanto riguarda un po' di topografia della corteccia motoria primaria, dobbiamo fare riferimento all'homunculus. Abbiamo visto che esiste un homunculus di tipo sensitivo ma esiste anche uno di tipo motorio. Se infatti noi andiamo a stimolare vari punti della corteccia motoria, di cui qui abbiamo una veduta coronale, avremo l'attivazione di muscoli differenti. Nella parte più mediale in assoluto della corteccia motoria primaria sono presenti i muscoli che fanno riferimento ai piedi, poi alla gamba e poi spostandosi più lateralmente fino alla coscia e per arrivare al braccio. Una grossissima parte della corteccia motoria primaria, sull'aspetto laterale, è debutato al controllo della mano. La mano infatti compie dei movimenti molto fini, perciò è necessario un controllo motorio molto preciso, quindi proporzionalmente, nonostante sia costituita, diciamo, da dei muscoli molto piccoli, occupa una grandissima parte della corteccia motoria. La stessa cosa vale per la bocca, infatti la fonazione prende gran parte del nostro controllo motorio perché anche qui bisogna compiere dei movimenti molto articolati. Perciò vediamo come quello che abbiamo a livello sensitivo si rispecchi anche in quello che abbiamo dal punto di vista motorio, ovvero movimenti precisi richiedono una grande dedizione di aree corticali, così come succedeva a livello sensitivo che le aree più sensibili avevano una rappresentazione corticale magnificata. Come dicevamo prima, poi il controllo motorio è controlaterale, perciò se qui vediamo ci sono rappresentati dei neuroni che partono dalla corteccia motoria primaria, questi qua, e scendono lungo il tratto piramidale, attraversano la capsula interna, scendono e scendono lungo prima il tronco e poi fino ad arrivare al midollo spinale dopo aver degussato. Quindi a livello della degussazione delle piramidi si portano controlateralmente e arrivano infine a stimolare le corne anteriori dei nervi spinali e quindi a controllare il movimento della parte controllata del corpo. Una parte dei neuroni della corteccia motoria primaria, quelli che sono deputati al controllo dei nervi cranici, quindi ad esempio dei movimenti oculari, dei movimenti di muscoli facciali, invece si fermano a livello bulbare e poi qui stimolano i nuclei dei nervi cranici che più o meno seguono la stessa logica dei nervi spinali. Quindi questa era una review, diciamo, sul ruolo del cervello nel controllo motorio e della corteccia motoria primaria nello specifico. Abbiamo visto quindi dove è Sita nel giro post-centrale immediatamente dopo al sorco centrale. Abbiamo visto che esistono due aree più anteriori rispetto ad essa che si occupano della programmazione del movimento, sembra, e ne abbiamo studiato l'organizzazione secondo l'homunculus, quindi se noi andiamo a stimolare, per esempio, una regione qui, piuttosto laterale della corteccia, avremo la stimolazione dei muscoli della mano e la mano che viene stimolata, se stimoliamo l'emisfera di sinistra, sarà quella di destra per via della degustazione delle piramidi. Ok, io vi ringrazio per aver guardato questo video e vi saluto.